Ciao, benvenuto in questo nuovo video, io sono Andrea e mi sono accorto che sul mio canale non ho mai trattato in modo approfondito o comunque in modo specifico la questione dei gialli rossi, ovvero delle ristrutturazioni, delle demolizioni e nuove costruzioni possiamo chiamarle un po' come ci pare e quindi ho questo piccolo progettimono che volevo condividere con te, nella quale questo che vedi è una pieno terra di un condominio fabbricato ovviamente più alto, che attualmente si sviluppa a negozio e diventerà un unico negozio, in questo caso un'unica officina quindi a un lato ci sarà il ponte per sollevare le auto, l'accoglienza per i clienti, quindi un ufficio e una zona di lavaggio delle autovetture sul retro è presente questo aggetto completamente abusivo che deve essere tolto attualmente ci sta un piccolo bagnetto, guarda possiamo andare direttamente nel pieno terra c'è questo piccolo bagnetto che verrà tolto, quindi chiusa questa porta anche che dà nel bagnetto e verrà creato un nuovo bagno all'interno ovviamente per ospitare un'officina verranno riviste quelle che sono le aperture per l'accesso con i veicoli e l'apertura garage sarà cinesca che ci stava con la vetrina centrale sarà sostituita ovviamente con una vetrina d'ingresso per la zona clientela, zona ufficio quindi per farlo è molto semplice, dobbiamo stare attenti per prima cosa quando digitalizziamo il nostro rilievo e lo portiamo sul BIM di andare a selezionare tutti i livelli presenti quindi apriamo tutte le viste in automatico quando apri il progetto architettonico hai tutte queste viste tu le selezioni tutte premendo semplicemente con shift e devi impostare come filtro delle fasi fase come stato di fatto, tutte quante nello stato di fatto dopodiché in questo modo inizi a tracciare i muri io ora ti faccio vedere come traccio un muro, magari questo da 10 cm qua come lo seleziono vedo che un muro nella fase di creazione è stato tracciato nello stato di fatto se io ora nel piano terra andassi a lavorare nello stato di progetto W A per wall una volta che tracci il muro, vedi che selezionando il muro mi viene tracciato e creato nello stato di progetto quindi particolare attenzione è quella di impostare subito se si tratta di una ristrutturazione e devi far vedere le demolizioni e ricostruzioni subito tutte le viste come stato di fatto perché a volte capita nella fretta della digitalizzazione del tuo rilievo di iniziare a disegnare direttamente come apri il tuo template che magari sta tutto in stato di progetto e quindi succede che ti ritrovi tutti gli elementi in stato di progetto per ovviare a questo problema tu cosa fai? selezioni tutto il tuo disegno ovviamente qui hai più di una categoria selezionata quindi non vedi le impostazioni vai su filtra deseleziona tutto e lavora soltanto magari per apparecchi idraulici che magari sono in questo caso i sanitari gli elementi di dettaglio lasciali finestre muri note di testo lasciale perché le quote ed altri elementi anche le porte sono collegate al muro di conseguenza spostando ad esempio il muro in stato di progetto le porte vengono e gli elementi come le finestre guardo ora il disattivo vengono automaticamente portate nella stessa fase pavimenti i percorsi scala no perché il percorso scala è il disegno del percorso della scala a noi serve portare soltanto la scala nemmeno le ringhiere perché sono elementi in questo caso elementi della scala quindi scale oddio le puoi anche selezionare in questo caso ma lasciamo in questo modo selezionando questi elementi la fase di creazione la porta dallo stato di fatto allo stato di progetto puoi vedere anche come queste finestre che non avevamo selezionato vengono spostate nello stato di progetto e comunque tutte le pareti e ciò che avevamo selezionato si è spostato nello stato di progetto ovviamente ctrl z per tornare indietro ora ci troviamo tutti nello stato di fatto cosa dobbiamo fare? allora diciamo subito questa finestra la lascio perché magari il cliente a determinate particolarità vuole questo infisso qui ma vuole togliere questa saracinesca per garage questa saracinesca per garage quindi queste due e anche questa perché le vuole ingrandire questa diventerà una facciata continua per una vetrina quindi selezionando queste tre vado semplicemente a fare una fase di creazione stato di fatto lo lascio perché ovviamente è un mio stato di fatto però nel progetto sarà demolito quindi la fase di demolizione quando la voglio far applicare nello stato di progetto ehi un attimo prima di andare avanti se ti piace quello che faccio ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere nessun nuovo video e se davvero vuoi supportare il mio lavoro avere accesso a contenuti esclusivi titolo le quinte e magari qualche sorpresa in più dai un'occhiata agli abbonamenti troverai diverse opzioni che ho creato apposta per te così puoi scegliere quella che ti piace di più in più su Patreon puoi trovare il materiale dei miei video come file sorgenti e tanto altro liberamente accessibile ai membri registrati e un modo per condividere tutto quello che realizzo per creare i miei contenuti trovi tutte le info cliccando sul pulsante abbonati qui sotto o visitando il link in descrizione grazie mille per il tuo supporto mi aiuti tantissimo a continuare a creare contenuti di qualità e ora torniamo al video ora ovviamente a te non cambia nulla perché ricordati questa vista sta sempre tra le fasi in fase stato di fatto quindi devo andare a vedere lo stato di progetto mi metto in comparativa e cosa succede? vedo che Revit in automatico in automatico dico di demolire questa porta garage e lui in automatico mi demolisce la porta garage ma ipoteticamente ci rimane un vuoto il programma da solo va a riempire quel vuoto con il muro quindi è come se io vado a murare quello che c'era prima a questo punto vado a selezionare gli elementi del mio bagnetto e anche qui posso fare sia come prima che secondo me è più veloce fase di demolizione lo sposto nello stato di progetto oppure vado a selezionare il martello l'icona del martello che è un demolisci e vado a dire che questo elemento questo elemento questo elemento che si porta dietro la finestra questo questo questa porta vengono demolite automaticamente come abbiamo visto per il garage anche per questa porta viene ricreato un tamponamento al muro ovvio che questo secondo me è un metodo più lento fa la stessa cosa che abbiamo visto prima selezionando gli elementi manualmente spostando la fase di demolizione nello stato di progetto è la stessa identica cosa fatto questo io devo inserire delle porte garage più grandi quindi dr per porta vado a saracinesca per garage modifico il tipo perché la devo rendere più grande e la rendo alta ipoteticamente 2 metri e 40 per 3 metri e 50 vado a modificarne le proprietà 2 metri e 40 e la larghezza 3 metri e 50 per un accesso più facilitato e per lavorare anche su mezzi più grandi e vado a posizionare la porta più o meno parliamo di un edificio in questo caso in muratura portante quindi non mi voglio mettere troppo attaccato alla finestra mi sposto qui e da quest'altro lato mi sposto qui ovviamente non parliamo ora dell'aspetto strutturale non ci serve verranno fatte delle cerchiature però in questo caso noi non lo guardiamo questo aspetto e come puoi vedere il programma in automatico guarda ora te la sposto la porta della garage per fartela vedere in automatico dice io ti demolisco questa porzione però qua c'era un'apertura esistente che ho tolto prima io la vado a riempire perché la nuova apertura il nuovo garage sarà in questa posizione qua ora ovviamente noi la spostiamo questa apertura e prenderà una porzione di quella vecchia quindi il programma non ti dice più che ti va a ricostruire qui al centro del muro ti va semplicemente ad allargare quindi a demolire una mazzetta diciamo a sinistra e a destra per ampliare la porzione di apertura di questo garage nel 3D ora siamo sempre nello stato di fatto ci spostiamo nello stato di progetto e invece di mostratutto perché in questo caso ci fa vedere anche il demolito ma non la comparativa cosa succede andiamo in comparativa e vediamo effettivamente che ci viene creato il rosso il nuovo e demolito tolto il vecchio elemento e qua possiamo vedere pure nel 3D come si comporta gli elementi questo è completamente in wireframe io nel 3D comunque vado quasi sempre a vedere lo stato di progetto sempre se qualche vista specifica non è necessaria vederla come stato comparativo anche nel modello 3D spostiamoci di nuovo in pianta andiamo a fare quelli che sono i lavori ora hai capito quanto è semplice fare questo tipo di scorso quindi io posso prendere un muro quindi W al per wall prendo un muro da 10 cm da 15 cm facciamo mi vado a tracciare il nuovo bagno vedi subito rosso qua lavorare in comparativa ci aiuta molto ricordati perché è già rosso perché è un nuovo muro soprattutto non lo sto tracciando in una vista dedicata in una fase stato di fatto ma sto nella fase di stato di progetto quindi il programma già capisce che questo che vado a creare si deve trasportare in una fase temporale successiva a quella che mi ritrovo ovviamente nella fase di rilievo non l'ho fatta nella fase attuale a questo punto do sempre WA per wall e devo andarmi a creare una mia vetrina quindi parto dal generico lo duplico lo chiamo vetrina d'ingresso vetrina ingresso il layout verticale metto una distanza fissa di non lo so mettiamo 60 cm è un'altezza fissa lo possiamo lasciare l'altezza non ci interessa mettiamo montante rettangolare perfetto i miei montanti orizzontali lo mettiamo soltanto al tipo di bordo 1 in modo che ci crea il contorno dei miei montanti della vetrina praticamente diamolo ok andiamo nelle proprietà non deve arrivare fino a livello 1 ma magari soltanto fino a 2 metri e 10 andiamo a tracciare il muro da questo punto a questo punto solitamente il curtain wall quindi la facciata continua taglia in automatico i muri in questo caso ci esce un messaggio basta leggere se è delle difficoltà che i muri evidenziati si sovrappongono uno di essi potrebbe essere ignorato durante l'individuazione dei contorni del locale utilizzare il comando taglia geometria per incorporare un muro nell'altro quindi il programma ci va a suggerire di usare il comando taglia questo muro con il curtain wall appena creato e abbiamo realizzato come vedi non abbiamo più riempimento del muro perché abbiamo sostituito questo garage con il nuovo curtain wall e abbiamo qui il modello ora selezioniamo l'elemento centrale il pannello perché noi vogliamo una porta cancella abbiamo qui una griglia centrale che possiamo svincolare ma non cancellare nemmeno usando il comando rimuovi quindi la selezioniamo la portiamo qui a zero abbiamo un pannello unico che non possiamo selezionare se non attiviamo comunque la selezione degli elementi bloccati perché se questa funzione è disattivata noi non possiamo nemmeno con il tab selezionare sì il modello ma non possiamo lavorarci quindi utilizzando la selezione degli elementi bloccati andiamo a selezionare il nostro pannello e andiamo a modificarlo ovviamente ora non abbiamo niente andando a caricare quella che è una porta doppia per farlo andiamo su inserisci carica famiglia pannello di facciata continua doppia anta selezioniamo il doppia anta una volta caricato selezioniamo il nostro pannello selezioniamo doppia anta andiamo nella ricerca e abbiamo il nostro pannello ora nella vista di pianta andiamo in una vista un pochino più alta e vediamo che l'apertura si apre nel punto corretto bene a questo punto inseriamo una nuova porta porta magari un 80x210 nel futuro bagno andiamo ad inserire magari prendo questo elemento cs per creasimile e lui me lo porta in automatico me lo crea nella fase nella quale sto lavorando quindi non nella fase stato di fatto demolito nello stato di progetto ma nello stato di progetto andiamo ad inserire quello che è il nostro bagno quindi questi elementi ora ovviamente non stiamo facendo un progetto quindi sono molto veloci nell'arrizzazione di questi elementi qua ci andiamo a creare una nuova parete perché questo è lo spogliatoio perfetto in modo tale anzi guarda facciamo così gli scarichi stanno di qua questo lo spostiamo qua e questo lo mettiamo qua ok in modo tale che qui poi ci saranno delle scaffalature per far spogliare il personale e il bagnetto più riservato qui ci sarà un bancone ora non lavoriamo con l'arretamento ma un bancone una sala d'attese ipoteticamente ora completiamo un attimino la scena solo da un punto di vista visivo e facciamo anche un altro discorso di quello che possiamo impaginare e come possiamo impaginarlo ora abbiamo inserito due semplicissimi modelli una macchina in lavaggio una macchina sul ponte mi sono accorto che possiamo inserire siamo nella fase di progetto anche ovviamente delle finestre qui nel bagno inseriamo una finestra nel bagno quindi questo non è un altro elemento nuovo perché se vado ora dallo stato di progetto nella comparativa vediamo che ho una finestra nuova segnata quello che dobbiamo fare ora è lavorare con il stato di progetto è stato di fatto da impaginare quindi facciamo un impaginato molto veloce quindi creiamoci una nuova tavola la zero metrico va bene ora non stiamo guardando l'impaginato d'altro ma quello che dobbiamo fare è lavorare con le piante che abbiamo qui ora riseleziono tutto magari i prospetti li cancello perché in questa fase non mi servono riseleziono tutto lascio il 3D al di fuori sposto tutto nella stato di fatto quindi metto un mostra tutto perché se apro il mio elemento di pianta vedo che vedo soltanto tutto nello stato di fatto vado di nuovo nella pianta e quello che faccio io è rinominare le viste le viste a volte lascio le viste base dove vedo le viste di lavoro ma questo è un discorso a parte in questo caso io vado a rinominarmi tutte le viste magari il piano primo non voglio nemmeno vederlo quindi lo cancello come vista non mi interessa il pianto di contro soffitti pure soltanto la vediamo col piano terra in questo caso lo richiamo SDF per stato di fatto molto semplice il programma mi dice vuoi rinominare i livelli e le viste corrispondenti certo quindi facciamo di sì tasto destro duplica vista con dettagli tutto quello abbiamo inserito le quote e quant'altro lo rinomino stato di progetto quindi sdp perfetto e gli do filtro delle fasi stato di progetto ovviamente stato di progetto come la fase per vedere in questa fase vado a nascondere l'arredo non mi serve magari lascio soltanto il ponte quindi li seleziono icona di nascondi elementi lascio soltanto il ponte per far vedere ah ecco visto che ci siamo ovviamente come faccio a collegare questi due ambienti vado a inserire una nuova porta di collegamento non la inserisco sul fronte perché qua è per l'utenza per i clienti qui abbiamo la parte di ufficio col bagnetto questa zona è tutta riservata quindi con l'accesso diretto e anche verso ovviamente la parte di autolavaggio vado a fare di nuovo tasto destro duplica vista sempre con dettagli la duplico e la chiamo raffronti raffr come raffronti quindi mi sposto nella mia vista a 1 premo l'elemento per chiudere tutte le finestre inattive la vista di raffronti ovviamente la vado a modificare come comparativa e mi sposto lo stato di fatto in questo punto lo stato di progetto in questo punto e i raffronti in questo punto ora come puoi vedere sono rimaste delle viste di prospetto che io ho cancellato ma faccio il tasto destro seleziono tutte le istanze dentro il progetto le cancello perché non voglio vederle a questo punto seleziono tutte e tre le mie viste nell'icona di proprietà delle finestre gli vado a dire riselezioniamole modifica tipo di il titolo me lo deve inserire il titolo della vista a questo punto sposto in alto le mie viste così da avere un riferimento corretto e magari come finestra vado a togliere la linea guida in modo che non vedo queste linee sotto i miei elementi e mi sposto le diciture dei testi nel punto più a me idonio la cosa che possiamo fare è aggiungere queste quote ovviamente quindi rifinire un po' il disegno questi sono elementi che ovviamente le quote non vengono riproposte in ogni disegno vengono riproposte in questo caso perché io ho fatto duplica con dettagli qui c'era un vuoto perché io ho eliminato questo bagnetto esterno abusivo ovviamente le quote riferite a questo bagno sono state cancellate ma in questo caso puoi vedere che anche qui ho cancellato le quote negli altri elementi sono rimasti quindi selezionando le mie quote posso fare come superficie del muro ma riferimento muro intero selezionando il muro intero mi prende tutti gli elementi del muro posso andare ora a fare una modifica linee linee di guida togliere gli elementi che non mi servono come questi elementi di tramezzatura qua interna ovviamente qualche elemento mi viene saltato e quindi di dimensione allineata da questo punto a questo punto ci aggiungiamo noi manualmente molto semplicemente stessa cosa possiamo fare qua lo stesso discorso andando a fare modifica linee guida aggiungendo quello che manca però non ci fa inserire alcuni elementi purtroppo ma lo facciamo noi manualmente quindi poco ci interessa da questo punto a questo punto ci attacchiamo qui da questo punto anzi ora facciamo riferimenti da questo punto da questo punto andiamo qua e da questo punto da questa parete andiamo qua in modo tale che praticamente abbiamo i nostri elementi ben realizzati ora questo come puoi vedere era un video molto semplice una situazione molto semplice da uno stato di fatto molto banale per un'officina abbiamo inserito due porte un bagnetto abbiamo modificato delle porte garage in porte garage più grandi e abbiamo realizzato quello che ci serve questa situazione ovviamente funziona anche con i locali ora ti faccio vedere giusto velocemente io vado su architettura locale creo locale 1 2 e 3 ovviamente nel mio progetto non li vedo perché nel mio progetto avrò ulteriori locali 2 3 più l'antibagno e il bagno questo può tornare utile magari nella vista dei raffronti voglio nascondere il colore dei bagni quindi la tolgo perché vedo solo la colorazione non vedo il numero dei locali ovviamente ma non lo voglio vedere qui magari lo voglio vedere il colore qui no quindi vado anche qui seleziono la vista schema colori da numerazione lo tolgo e quello che posso fare è anche un abaco dei locali io già ho un abaco dei locali che se ci apro vedo quello che ci sta dentro è un abaco che si riferisce però allo stato di progetto quindi banalmente anche qui posso fare sdp duplica non ne posiziona facciamo soltanto duplica vista lo rinomino sdf e vado a inserire qui gli abacchi dello stato di fatto ovviamente poi li chiudo li trascino tutte e due qui all'interno della vista e ho i due abacchi rispettivi dello stato di fatto e dello stato di progetto prima di chiudere il video intanto lascia un like se non l'hai fatto iscriviti al canale ovviamente se non sei iscritto e commenta qui sotto magari dei video che vuoi vedere in futuro sempre sulle ristrutturazioni però prima di chiudere ti volevo far presente una cosa se andiamo noi su gestisci e andiamo su fasi possiamo andare a vedere come Revit lavora con le fasi come le gestisce e le modifiche che puoi apportare perché allora noi le fasi soprattutto nel template italiano lo vediamo in stato di fatto stato di progetto classici gialli e rossi ma puoi aggiungere varie fasi ad esempio stato di fatto ampliamento 1 ampliamento 2 potenziale ristrutturazione dopo nel senso puoi andare a schedulare le varie fasi di intervento sull'immobile in modo da averne comunque tracce e poterlo filtrare nelle viste infatti in fasi di progetto vedi che abbiamo per ora due fasi ma ne puoi inserire una dopo ampliamento ampliamento 2 ad esempio e così via in filtri delle fasi di lavoro sono appunto i filtri visivi cioè questi gialli e rossi che vediamo qua da questo lato ne possiamo aggiungere nuovi nuovi filtri tipo per l'ampliamento e ora intanto lo cancello e abbiamo comparativa mostro tutto che non si può toccare stato di fatto e stato di progetto lo vedi che lo stato di fatto ad esempio gli elementi nuovi non vengono visualizzati se tu ipoteticamente fai caso quando sono lo stato di fatto sto nella vista stato di fatto traccio un muro nuovo questo muro nuovo nella vista di stato di progetto non viene rappresentata e di conseguenza appunto non viene visualizzato l'esistente per categoria cosa vuol dire per categoria vedo il muro così come viene tracciato se ha una stratigrafia vedo una stratigrafia con determinati colori retini tratteggi lo stato demolito non viene visualizzato perché non viene demolito nulla stessa cosa per lo stato di progetto come vedi al nuovo è per categoria qua nello stato di progetto viene visto anche l'esistente perché se io l'esistente guarda te lo faccio vedere metto non visualizzato ovviamente io vado a perdere lo vediamo di qua vado a perdere i muri esistenti vedo soltanto il nuovo ovvero gli elementi che sono andato a tracciare non quelli che già esistono quindi ovviamente stato di progetto per categoria l'esistente anche per categoria ora non mi fa rifare applica faccio ok e riapro il il tab delle fasi e il demolito ovviamente non visualizzato nella comparativa che è importante vedo il nuovo come sostituito ovvero il nuovo mi diventa rosso l'esistente quello che io non tocco per categoria vedi i muri sono tracciati così come li vedo se avevo retino nero li vedevo nero e così via come detto prima il demolito sempre è sostituito cioè va a sostituire la visualizzazione di questi elementi quindi sia del nuovo che del demolito ora come me lo sostituisci perché questo è giallo e questo è rosso andiamo in sostituzione grafica e vediamo che qui compare il sostituito cioè io qua quando inserisco il sostituito è perché io inserisco qua dei dati vediamo che per il nuovo il mio sostituito deve essere le linee che sono rosse il taglio anche linee rosse e la sezione piena rossa per il demolito il mio sostituito deve essere il giallo giallo anche per il taglio con il riempimento posso mettere che l'esistente nel mio sostituito sia grigetto come vedi il mezzotono io non lo vedo perché nelle fasi del filtro dei lavori il mio esistente è sempre per categoria se io lo vado a mettere sostituito vedo che diventa grigetto l'esistente quindi questo tool è molto importante un po' una matrice complessa da individuare ma è molto importante molto potente quindi ora torno su esistente per categoria comparativo e torno a togliere i mezzi toni e da qui come puoi vedere ora torno a tutto normale da qui inoltre possiamo inserire il materiale il materiale è fondamentale per il modello 3D tipo nella fase nuova cioè il materiale nuovo fase nuova che se io apro questo materiale puoi vedere che ha una grafica completamente nera invece cosa possiamo dire a questo materiale che mi devo usare questo rosso do applica e il demolito vado sul demolito il demolito ha una grafica non so perché rosso noi la diamo gialla andiamo ok ok e io cosa succede ora mi sposto nel 3D vado nella mia comparativa e posso vedere che non è risolto niente perché torniamo nelle fasi andiamo a modificare bene il materiale tipo della fase nuova ovviamente devo dare un aspetto non solo grafica che lo vedo in pianta ma un aspetto di colore rosso diamo applica vediamo che si colora un po' tutto anche la fase di demolizione perché condividono lo stesso materiale quindi per ovviare a questo problema andiamo nel materiale fase di demolizione la grafica è gialla ma l'aspetto lo dobbiamo modificare quindi cosa facciamo clicchiamo su duplica la risorsa quindi generico 30 ora diventa e questo generico 30 mi diventa il mio giallo faccio applica vedi che solo questo materiale diventa giallo e abbiamo effettivamente queste demolizioni corrette fase temporaneo lo possiamo duplicare e far tornare il nostro grigio scuro ora metto un grigio qualsiasi non è importante questo e come puoi vedere abbiamo anche nel 3D poi la modellazione corretta i colori corretti bene a questo punto il video termina qui e ti ricordo di nuovo di lasciare un like di iscriversi al canale di commentare qui sotto soprattutto se come hai detto vuoi vedere delle cose un po' più specifiche rispetto a queste ristutrazioni all'uso dei gialli rossi e delle fasi noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao